Presentato presso la sede di via San Francesco, il nuovo bando di concorso finalizzato è la creazione di un logo grafico per il settantesimo anniversario di Avis Fano. Il progetto è riservato agli studenti della grafica pubblicitaria Sezione Seneca dell'Istituto Livetti e del Liceo Artistico Apolloni di Fano. Il direttivo Avisino ha voluto affidare la creazione dell'elaborato agli studenti con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani al mondo della donazione di sangue. Le classi coinvolte saranno le quarte e tre seconde del Liceo Apolloni e una quarta del Polo Treffano. Un bando nel corso del quale i giovani dovranno interpretare il logo del settantesimo che poi attraverserà i cinque anni successivi fino al settantacinquesimo. Dovranno interpretarlo, dovranno mettere i segni distintivi dell'idea del dono, i segni distintivi della città e abbiamo pensato alla parte nuova, antica e nuova di città, cioè l'arco d'Augusto e il Pincio. Riteniamo che i giovani meritino il massimo dell'attenzione, i giovani hanno creatività, hanno energie, hanno iniziativa, hanno entusiasmo. Se uno riesce a coglierne tutti questi valori sicuramente sanno interpretarli in maniera ottima. Il bando prevede anche degli incentivi economici per entrambi gli istituti e dei premi singoli per i primi tre classificati con la possibilità di acquisto di materiale didattico. Tutti gli elaborati aderenti al concorso saranno poi presentati alla città attraverso una mostra dedicata. La mostra sarà sicuramente da noi allestita perché la città possa vedere che cosa i giovani sanno creare, sanno costruire, sanno pensare. Cioè vogliamo anche dissacrare il luogo comune della negatività del mondo giovanile.